Appuntamento importante oggi, in cui vengo con piacere, prima perché è una realtà importante su tutti gli aspetti commerciali, immagine, per la nostra provincia. Fila è un'azienda che tutti conoscono, che negli ultimi anni si è espansa anche a livello internazionale, per cui un marchio è molto precisoso per quanto riguarda la nostra provincia, la nostra regione, la nostra nazione. Fa un fatturato importante, fa 80 anni, è la terza generazione e questo penso sia un esempio per tutti gli imprenditori, non bisogna mai mollare, bisogna fare. Io ricordo, perché ho passato qualche anno, quando ero molto più giovane, in cui facevo acquistare, acquisivo gli ucci da scarpe, molti non si ricordano più, hanno cambiato completamente la logica di produzione, fanno trattamenti per superfici, ma molto innovativi, ad esempio vengono, anzi, dalla zona a fare le pulizie, chi utilizza questi prodotti, per cui complimenti. Un complimento davvero eccezionale di ringraziamento a parte della provincia per quello che fanno, per i lavoratori, per tutto quanto, per l'immagine in realtà. Fila è una realtà importante del nostro territorio, del nostro comune, oggi festeggiamo l'ottantesimo anno di attività di questa azienda e San Martino di Rupari è orgogliosa di annoverare tra le sue principali aziende questa realtà. Una realtà che nasce dal grande lavoro della famiglia Petteno, sono tre generazioni, è un'azienda sicuramente che ha fatto passi da gigante, che si è sviluppata non solo nel territorio nazionale, ma anche a livello internazionale, portando un marchio che è sinonimo di affidabilità, sviluppo, di prestigio e soprattutto anche di innovazione, attenti alla sostenibilità. Siamo molto contenti che questa realtà faccia parte del nostro territorio. 80 anni di storia si rappresenta in cosa? Nella voglia di fare delle cose fatte bene, di cercare nuovi mercati, di cercare nuovi prodotti, avere sempre la voglia di innovare, ma anche allo stesso tempo che se non fai le cose fatte bene, di criticare te stesso e dire perché ho sbagliato e migliorare te stesso. Questa è una cosa secondo me che è basilare e importante. E poi non chiudersi a cose piccole, di vicino a casa, guardare il mondo, il mondo è aperto, il mondo è pieno di opportunità. Continueremo sicuramente nella nostra spinta internazionale ad essere ancora più vicini nei nostri mercati, però con uno spirito e un'attenzione alla sostenibilità, non soltanto ambientale, ma sociale e con una governance ancora più chiara e ancora più aperta anche all'esterno. E questo per arrivare ad avere dei prodotti sempre performanti, ma con un'ottica di tutela ambientale e di rispetto dell'ambiente. Grazie a tutti.